Luigi Ghirri nasce a Fellagre di Scandiano nel 1943. Inizia a fotografare con continuità dal 1969, quando, in contatto con artisti concettuali emiliani, tra cui Franco Guerzoni, Giuliano della Casa e Claudio Parmigiani, intraprende una riflessione sul ruolo dell'immagine nella contemporaneità. Alle collaborazioni artistiche affianca da subito una ricerca articolata per serie e combinatorie di fotografie, organizzate intorno a temi del visibile contemporaneo, la dialettica tra naturale e artificiale, finzione e realtà, le mitologie del consumo, il tempo e la percezione dello spazio abitato, a cui assegna titoli di sottile ironia, come Colazione sull'erba, paesaggi di cartone, in scala, infinito. Ghirri fotografa sistematicamente a colori, scelta che condivide con pochissimi altri in Italia e indicazione che lo colloca in una posizione alternativa sia al reportage polemico che alla fotografia di pretese artistiche della tradizione amatoriale. Scelta parallela e per molti versi in anticipo rispetto a quella della più aggiornata fotografia internazionale, in particolare a quella dei New Topographic statunitensi e ambito di ricerca che condivide presto con altri autori italiani, tra cui Olivio Barbieri, Gabriele Basilico, Giovanni Chiaramonte e Guido Guidi. Il suo rapporto con Xac diviene assidua frequentazione dalla metà degli anni 70, quando incontra Arturo Carlo Quintavalle e Massimo Mussini. Del 1979 è la sua grande rassegna antologica, Luigi Ghirri, vera fotografia, allestita a cura di Xac nella Sala delle Scuderie, in pilotta. È in quell'occasione che Ghirri, nel frattempo membro del comitato scientifico della sezione fotografia Xac, a cui collabora anche con il reperimento di fondi storici, inizia la sua scrittura critica. Nel 1983 inizierà a insegnare storia della fotografia all'Università di Parma. Gli anni successivi lo vedono riferimento di una coené di fotografi impegnati alla ridefinizione dell'immagine del paesaggio italiano ed è la fotografia di architettura, istigato da Vittorio Savi e poi con un'intensa collaborazione con Aldo Rossi. La sua collaborazione con Xac, a cui lascia oltre 1200 stampe, la maggiore raccolta di sue stampe originali, sarà intensa e continua fino alla realizzazione del suo ultimo volume, Viaggio dentro un antico labirinto, con Quintavalle, nell'inverno del 1991, e rievocata nel 2022 in occasione del trentennale della sua scomparsa.